Investiamo 40 milioni di euro per un progetto complessivo di contrasto ai roghi e allo sversamento abusivo dei rifiuti nella terra dei fuochi, in modo particolare nell'area vesuviana. Ovviamente questo grande investimento prevede una serie di azioni. La prima è l'apertura di quattro centri interforze collocati a Marcianise, Mondragone, Giuliano e Massa di Somma. Abbiamo centri interforze che servono a monitorare il territorio, a controllarlo, a contrastare gli incendi abusivi. Poi avviamo tutto un lavoro per ripulire le discariche dagli sversamenti abusivi. Apriamo con un altro investimento delle discariche dedicate per le gomme delle automobili, dei camion, per i prodotti di scarto delle industrie tessili e così via. E poi attiviamo la gara che dovremo concludere entro l'estate per l'acquisto dei droni, per il controllo aereo del territorio. Uno sforzo enorme per ripulire il territorio, per fare lavori in danno nelle aree private riempite di rifiuti e non ripulite dai privati, per comprare i doni, per avere un monitoraggio aereo, per mettere insieme i carabinieri, guardia di finanza, polizia di Stato, forestale e le strutture della regione. Contiamo di fare dei passi in avanti decisivi per la bonifica del territorio. Siamo la regione più monitorata e controllata d'Italia, ma controllata non solo per l'attivazione del registro dei tumori, ma addirittura per l'indagine in corso per verificare gli effetti degli inquinanti atmosferici sul genoma dei soggetti adulti e giovani in modo particolare. Quindi davvero è un lavoro gigantesco che è in corso, avremo bisogno ovviamente di un tempo necessario per arrivare a risultati significativi, ma mi pare che abbiamo affrontato in maniera definitiva il problema.